Ma sono state due settimane forzate per causa di maltempo, purtroppo non abbiamo potuto disputare due gare importanti come Torino e Lazio, comunque per quanto ci riguarda siamo riusciti a recuperare quelli giocatici che in questo momento ci mancavano in rosa per problemi fisici. Rientrata del gruppo a tempo pieno casile e di conseguenza ci è mancata solamente causa maltempo una partita amichevole infrasettimanale. Abbiamo lavorato anche il sabato, il giorno che di solito giochiamo la partita per non perdere anche un giorno importante come era il sabato. La partita di Brescia è una partita importantissima contro un avversario importante. Brescia ricopre una posizione in classifica di tutto rispetto, una squadra tecnicamente molto valida, ha degli elementi importanti. Però cercheremo di fare tesoro dell'andata, dove chiudendo molto bene tutti gli spazi abbiamo portato fino a pochi minuti alla fine un punto quasi sperato. Domene e sabato sicuramente cercheremo di provare ad offendere un attimino in più il Brescia, anche se sarà molto difficile, però chiaramente ci proveremo.